Alife nelle guerre sannitiche. Esauriti gli argomenti sulle origini, la topografia, l'arte e le istituzioni politiche, civili e religiose di Alife, credo opportuno ricordare gli avvenimenti bellici che ad essa hanno riferimento per completare i dati con una sintesi storica. Tali avvenimenti, pochi veramente, sono strettamente collegati alla storia di Roma e precisamente a quella unificazione italiana per la quale si ebbero le guerre sannitiche, che l'espansione romana nella campagna fece divampare. Questa espansione provocò, come è noto, la lotta contro la federazione sannita, con la quale Roma aveva già concluso nel 354 avanti Cristo patti di buon vicinato. Questa lotta durò oltre mezzo secolo, dal 343 al 290 avanti Cristo, ed assicurò a Roma la supremazia sulla penisola. Non parlerò di tutte le fasi della lotta, ma brevi cenni basteranno per confermare che Alife non ebbe una parte secondaria. La nostra guida sarà naturalmente Livio. Nel 429 di Roma, 325 avanti Cristo, vi fu una prima conquista romana di Alife, giudicata, per la sua posizione strategica, come un'ottima testa di ponte per marciare su Boiano, capitale della confederazione. I sanniti, perduta Alife, fronteggiarono sul Tiferno le forze romane, verso le quali corsero in aiuto. Nell'anno seguente, i consoli Papirio Cursore e Quinzio Fabio Rulliano. Il Burger invece ritiene che i romani si erano limitati a una semplice devastazione dell'Ager all'Ifanus. La barriera però non fu spezzata e le forze romane si infransero contro la linea di sbarramento che si estendeva fino a Sepino. Intanto fra scaramucce, trattative, incendi e devastazioni, trascorsero alcuni anni. Nel 321 avanti Cristo vi accorse nuovamente il Rulliano e, dopo di lui, Spurio Postumio e T. Valerio Calvino, esponenti di un intervento a fondo. Da questo momento nulla più si sa di Alife, ma per essere presa nell'anno 310, 444 di Roma, dal consol Marcio Rutilo, è evidente che i sanniti l'avevano in precedenza tolta ai romani. Il consol Rutilo si rese così padrone di tutto il territorio alifano, seminando la desolazione nei vici e nei Castella, che aveva costretto ad arrendersi. Ma i sanniti, secondo Livio, contrattaccarono i romani, travolsero gli eserciti di Rutilo e riconquistarono Alife. Una grande battaglia, scrive Livio, vi si svolse tre anni dopo ed esattamente nell'anno 367 avanti Cristo. Lo stesso Rulliano, a capo delle forze romane, attaccò le schiere sannite che difendevano la città. La lotta fu accanita e cruenta. Il Rulliano corse anche grave pericolo di essere sopraffatto. Il suo esercito ebbe il sopravvento e, respingendo i contrattacchi dei sanniti, inflisse loro gravissime perdite. Gran parte delle schiere sannite si salvò col favore della notte, ma fu ugualmente accerchiata e costretta ad arrendersi sotto dure condizioni. E cioè che ciascun soldato dovesse andare con una sola veste. Che 7000 soldati sanniti dovessero essere venduti all'asta. Che tutti dovessero passare sotto il gioco. Che gli ernici dovessero essere sorvegliati separatamente e quelli, tra essi, che avevano militato contro. Roma, distribuiti e dati in custodia ai popoli latini. Avvenuta in seguito la riconciliazione, il Consol Sempronio si portò nel Sannio nell'anno 304. Ed i sanniti permisero che i soldati romani si vettovagliassero nel territorio. Nei negoziati di pace l'oltrevolturno venne sacrificato, ma il Sannio non fu ancora domato. Nell'anno 298 si riprese la lotta fra i due popoli perché gli inconvenienti che avevano portato a 45 anni di guerra non erano interamente eliminati. Altre battaglie ed altri scontri finirono per indebolire la resistenza sannita. Le città cominciarono a cedere. Soltanto le popolazioni del Matese resistevano, fino a compiere irruzioni sulle testate di ponte sul Volturno. E così si scontrarono con il Proconsole Volumnio, secondo Livio. Altre truppe si scontrarono con Appio Claudio nel contado di Isernia. Le azioni furono sanguinose in tutto il Sannio. Anzi, nell'anno 292 i Sanniti fecero battaglia con il Consol Quinto Fabio Massimo Gurgite Ghiottone e lo sconfissero. Ma i rinforzi del padre, Quinto Fabio Massimo Rulliano, giunsero in tempo per cui i Sanniti furono sbaragliati. E il Comandante Supremo, Caio Ponzio Telesino, fu fatto prigioniero, condotto a Roma e decapitato. Alife nella Seconda Guerra Punica Nulla più sappiamo delle sorti di Alife fino alle vicende della Seconda Guerra Punica, 218-201 a.C., che, per le conseguenze che ne derivarono, segna l'alto grado cui è raggiunta la sapienza politica e militare di Roma. Durante queste vicende, dunque, vediamo Annibale passare dall'Irpinia nel Sannio. Egli saccheggia il territorio di Benevento. Prende Telese, si dirige poi in Campania passando per Alife, avviandosi per errore verso Casilino, odierna Capua, anziché verso Cassino secondo Livio, dove era suo proposito giungere, si ferma alquanto a Casilino Capua cercando poi di uscirne. L'esercito romano vigile glielo impedisce. Annibale, allora, pone in atto lo stratagemma delle fascine accese alle corna dei buoi. È così che Fabio Massimo si allontana ritirandosi verso i giochi più alti delle montagne. Annibale ha la possibilità di marciare liberamente e finisce per accamparsi nel territorio alifano. Sul far del giorno tra gli eserciti in lotta cominciano combattimenti di gruppi isolati. I romani stanno per vincere quando i cartaginesi ricevono rinforzi di bande spagnole. Fabio è costretto a rimuovere il campo. Uscendo da stretti passi si accampa sopra Alife in luogo alto e fortificato, secondo Lidio. Questo luogo è il Monte Cila di Piedimonte del quale mi sono occupato in principio di questo lavoro. Ancora munito di maestose cinte poligonali in rovina che costituivano una formidabile difesa dell'altopiano del Matese da eventuali assalti dal lato meridionale. Annibale, che ha in animo di proseguire per Roma, finge di andare per le terre dei Sanniti, ma improvvisamente torna indietro saccheggiando sul passaggio i paesi che trova. Intanto Fabio, schierandosi tra l'esercito nemico e le vie di Roma, costringe Annibale a mutare itinerario e ad andare cioè verso la Puglia. Da questo episodio si deduce che Alife dovette subire per breve tempo l'occupazione dei cartaginesi senza che nel territorio si verificasse qualche importante battaglia di cui avremmo avuto conoscenza. Attraverso le narrazioni libiane, deduco anche che la città, per essere difesa da Fabio Massimo, aveva dovuto già in precedenza far causa comune con Roma. Cadono quindi le congetture di qualche storico locale, Niccolò Giorgio, quando dice che Alife si sarebbe avvicinata ad Annibale come fecero altre città del Sannio, Dimenticando che il Sannio Pentro, del quale faceva parte Alife, non si dichiarò a favore del generale cartaginese. Alife nella guerra sociale e civile È noto che in seguito al rifiuto da parte di Roma a concedere ai suoi alleati soci Marsi, Peligni, Picentini, Vestini, Sanniti, Lucani, Frentani, Maruccini, L'uguaglianza dei diritti politici, si ebbe lo scoppio della guerra sociale, 91-88 a.C. I Sanniti, quantunque non fossero stati i primi a prendere le armi, ebbero una parte importante nella lotta. Essi anzi costituirono un elemento principale della confederazione dei popoli italici, tanto è vero che tra i capi e i generali vi furono i Sanniti Quinzio Pompedio Silo, il Telesino che fu l'anima della guerra civile d'indipendenza, un Caio Papio Mutilo, un Ponzio Telesino, ed altri. Anzi, dopo la caduta di Corfinio, la sede del governo e del quartiere generale venne trasferito in pieno sannio. A Boiano, Bovianum Vetus, e successivamente ad Isernia, Esernie, vi furono non pochi combattimenti fra le forze avversarie. In uno di essi, venne sconfitto il mutilo ad opera di Silla, il quale, dopo aver preso Eclano e Boiano, sottomise gli Irpini. Quando al termine del secondo anno di guerra, 89 a.C., tutti i popoli si sottomisero a Roma e furono ammessi al godimento dei diritti politici. I Sanniti e i Lucani seguitarono nelle ostilità sotto forma di guerriglia. Durante questo stato di cose si verificò la guerra civile tra Mario e Silla. I Sanniti si schierarono a favore di Mario. E quando Silla nell'anno 83 a.C. fece ritorno in Italia, i Sanniti impressero alla guerra civile il carattere di guerra nazionale e popolare. Mario ne restò sconfitto. Successivamente un esercito di Lucani e di Sanniti, sotto il comando di Ponzio Telesino, marciò contro Roma. Fu affrontato da Silla a Porta Collina il 1 novembre dell'anno 82. I Sanniti furono sconfitti e lo stesso Ponzio rimase ucciso. Silla volle, infine, sfogare tutto il suo odio contro i Sanniti mettendo a fil di spada 8000 prigionieri e dando mano a una sistematica devastazione dell'intero Sannio. In tutte le fasi degli avvenimenti narrati, il nome di Alife non appare che una sola volta in un passo di Strabone. Il silenzio delle fonti storiche nei riguardi della città si spiega nel senso che, gli Alifani non costituirono un gruppo a sé stante, ma fecero parte di tutto il complesso degli italici in armi. Essi, del resto, dettero il proprio contributo alla causa comune con le altre popolazioni Sannitiche, finché domati, smisero il loro senso di ribellione, per entrare definitivamente nell'orbita di Roma. Conclusione. Lontani ormai i confini, regnando la pace nella penisola, nessun avvenimento degno di nota accadde più in Alife. L'amministrazione si effettuava pacificamente e la vita fu calma fino alle invasioni barbariche. Da nessuna fonte ho potuto ricavare notizie esatte, in senso economico, della produzione agricola e industriale che pure doveva essere intensa. Se bisogna tenere in debito conto varie affermazioni di poeti e scrittori dell'epoca imperiale. D'altra parte era mio compito non uscire dai dati di fatto con voli di fantasia. Non ho che da concludere. E come dissi in principio, ripeto, questa breve ma documentata monografia sull'antica città Sannita vuole essere un piccolo contributo a una maggiore conoscenza dei particolari delle grandi sintesi storiche. Un contributo ricco di prove al culto della romanità così sentito dagli italici. Un contributo sentimentale a quel mio attaccamento ai paesi in cui vivo. Che pure hanno tanti ricordi e tante gloriose memorie che non bisogna dimenticare.